In tutte le regioni d'Italia, dallo scorso sabato è in corso la settimana nazionale Simeu del pronto soccorso. Fino al 24 maggio, la Società di Medicina d'Emergenza Urgenza ha programmato incontri ed attività per favorire il confronto tra i professionisti sanitari dell'emergenza e la popolazione. La novità principale di quest'anno è la collaborazione con Cittadinanza Attiva Tribunale dei Diritti del Malato. L'alleanza tra le due associazioni ha come obiettivo creare una squadra forte e tenace che possa, dal confronto, fare proposte concrete condivise di miglioramento e cura dell'organizzazione del pronto soccorso. I pronto soccorso calabresi che partecipano all'iniziativa sono quelli di Catanzaro, Vibo Valencia, Melito Portosalvo, Locri, Reggio Calabria. Nello specifico a Catanzaro la manifestazione si è svolta lo scorso sabato nel Parco della Biodiversità, in collaborazione con le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana. L'anno scorso abbiamo cercato un approccio col cittadino, quest'anno invece vogliamo che questo patto sia stretto alla grande, che sia balessa. E quindi il Tribunale è anche dalla nostra parte, lavora insieme a noi. Abbiamo deciso di fare un progetto, che è un progetto nazionale. Questo progetto prevede la somministrazione di alcuni testi di natura civica e di natura tecnica, a cura del Tribunale dei diritti del malato e a cura della Simeo, che è la nostra società nazionale di medicina d'urgenza e pronto soccorso. Inizierà a campione in tutti i dati, in tre città di Italia questa settimana e proseguirà fino ad ottobre. Alla fine questi dati saranno utili. Oggi è la prima giornata, 17 di maggio, ma poi ci sarà anche un interessante convegno che si svolgerà all'interno dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, indetto per il prossimo sabato. Sì, visto il successo dello scorso anno e quindi l'aula gremida da giovani medici e medici più anziani e anche cittadini, quest'anno ci è sembrato giusto rifarlo creando un percorso diverso. Quest'anno si parlerà di insufficienza respiratoria dal territorio fino al pronto soccorso. Quindi abbiamo coinvolti i medici di famiglia, abbiamo coinvolto l'ordine dei medici, l'ordine di guardia medica e chiaramente l'ospedale con tutto il pronto soccorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.